Foggia TV Foggia TV Per noi di Divella le cose più buone sono quelle più semplici. Per questo dal 1890 tutti i nostri prodotti sono preparati con ingredienti genuini e di alta qualità, sempre con grande rispetto per l'ambiente. Divella, passione mediterranea nel mondo. Se ci state seguendo significa che anche oggi ci avete scelto e dunque noi vi ringraziamo per l'ascolto e la visione del nostro telegiornale. Cosa accade in Puglia, in provincia di Foggia? Ecco i principali titoli di questa edizione del Tg. Caserma Miale all'Università di Foggia, la regione sostiene l'acquisto, operazione necessaria per l'aumento degli iscritti, oggi l'impegno. Netto calo dei contagi in Puglia, 15% in meno in sette giorni, vaccinato il 71% della popolazione, tre punti in più della media nazionale. Lavoratori in nero nei cantieri pubblici, blitz degli uomini del rispettorato in provincia, multate 4 aziende con 19 lavoratori irregolari. Niente paleoliche nel comune di Ortanova, la regione boccia il progetto della società milanese. Foggia in Coppa, Di Grazia e Curcio staccano il biglietto per gli ottavi, liquidato il Messina con il classico risultato. Uno dei principali motori della economia del nostro territorio è quello della Università, l'Università di Foggia. Numeri eccezionali anche quest'anno, stanno lavorando bene soprattutto nel settore della ricerca. Ci sono anche quest'anno tanti iscritti, ma c'è bisogno di più spazi insufficienti, quelli a disposizione dell'Ateneo. Questa mattina a Foggia c'è stata la tappa finale del Tor per le Università pugliesi, è stato programmato dalla Regione Puglia. E quelli della Regione, è venuta qui a Foggia praticamente mezza giunta, hanno detto che sosterranno, parteciperanno all'acquisto della caserma Miale. È stata espressamente chiesta dal Rettore dell'Università di Foggia, Limone. Sentiamolo. L'ultima tappa del tour itinerante della Regione per le Università pugliesi. Cosa ci portiamo a casa? Io spero che oggi si definiscano alcune questioni importanti per l'Università e per la città. Tra queste la primissima è la questione che riguarda gli spazi per gli studenti. Se parliamo di diritto allo studio, significa offrire agli studenti la possibilità di studiare all'interno di un'Università, di avere le condizioni in termini di residenza, alloggi, borsa di studio, ma soprattutto avere le aule. Noi ci troviamo nella situazione di avere nuovi corsi di studio e avere una carenza di aule. Questa cosa è inaccettabile. La Regione Puglia per fortuna sta intervenendo. La prima iniziativa concreta sarà la caserma Miale. Noi stiamo lavorando nella direzione dell'acquisizione della caserma Miale, con dei fondi della Regione Puglia e dei fondi ministeriali. Speriamo che questo si definisca nell'arco delle prossime settimane. Per l'Università di Foggia anche quest'anno i numeri sono molto soddisfacenti. Proprio perché sono soddisfacenti abbiamo bisogno di spazi e di servizi agli studenti, perché altrimenti gli studenti vengono a Foggia, ma poi non avendo servizi adeguati e non avendo spazi adeguati vanno in altre sedi. Noi dobbiamo riuscire a trattenerli per la qualità della formazione, ma anche per la qualità dei servizi. Portate qui il Presidente Mattarella, ma come avete fatto? Insistendo. Abbiamo chiesto molte volte al Presidente Mattarella di venire da noi, l'abbiamo chiesto anche negli anni precedenti e alla fine credo che il Presidente venga a Foggia anche con un'istanza simbolica, quella di dimostrare alla città la presenza dello Stato. Una città che combatte la mafia, non una città mafiosa. Bravissimo il nostro Rettore Limone, avete sentito, è riuscito a catturare il Presidente della Repubblica Mattarella per l'inaugurazione del nuovo anno accademico e sarà un giorno straordinario per la città di Foggia, ma per l'intera provincia. La tappa per le Università della Puglia questa mattina si è svolta qui a Foggia, avete visto, e si è svolta nell'Aula del Consiglio Comunale. Ed è strano non vedere i consiglieri comunali al loro posto e dunque avete sentito la istanza del Rettore. E questa mattina è giunta anche la risposta da parte della Regione Puglia, cioè ha chiesto praticamente un aiuto il Rettore di Foggia per comprare la caserma Miale perché gli spazi sono insufficienti. Allora sentiamo il Vice Presidente Piemontese che dice ok alle progettualità della Università di Foggia. Il Rettore di Foggia chiede spazi perché ci sono tanti iscritti, qual è la risposta? La risposta è che la Regione Puglia, come ha fatto negli anni scorsi, in cui abbiamo dato alla Università degli Studi di Foggia 20 milioni di euro per le scuole di specializzazione delle professioni mediche, senza dei quali avremmo avuto un tracollo, contribuirà anche in questo caso finanziando l'acquisto di ulteriori spazi per l'Università degli Studi di Foggia. Questa è l'attenzione che il Governo Emiliano e tutti noi abbiamo nei confronti dell'Università degli Studi di Foggia. Anch'io condivido nel rilanciare Foggia in una dinamica centrale e su questo stiamo studiando una norma insieme agli altri colleghi consiglieri e a tutto il Consiglio per fare il voto che noi si possa contribuire ad acquistare la caserma miale che viene scelta dall'Università. Cosa pensa la Regione Puglia del progetto più ambizioso dell'Università in Fiera? Non è che pensiamo noi, noi diamo una mano all'Università degli Studi di Foggia e quindi già essere nelle condizioni di poter unire la parte centrale di Foggia dall'Ateneo storico con la caserma miale e con la facoltà di economia, gli ex cavalli stalloni, significa dare una continuità. Se poi l'Università è nelle condizioni anche di allargarsi, noi ci saremo, noi daremo un notevole contributo al Rettore con cui abbiamo avuto insieme al Presidente Emiliano diversi incontri. Per il momento l'obiettivo è quello di acquistare la caserma miale per avere più spazi. Questo è un vecchio progetto di qualche anno fa, ma bisogna portarlo a termine e dunque acquistare i nuovi spazi. Ci sono i fondi, c'è la partecipazione, avete sentito, da parte della Regione e dunque l'operazione si può fare. Speriamo bene nel corso dell'anno o entro la metà dell'anno prossimo per definire l'operazione. Adesso le pagine della cronaca di oggi da San Severo e San Nicandro. A San Severo le Forze dell'Ordine hanno trovato armi nelle abitazioni e a San Nicandro un'altra piantagione di marijuana. Ancora droga sul gargano, ancora cannabis, i finanzieri del Comando Provinciale di Foggia hanno scoperto un'altra piantagione della sostanza stupefacente nelle campagne di San Nicandro garganico. 60 piante alte mediamente 3 metri, già fiorite, pronte per essere tagliate ed essiccate per la preparazione di dosi di marijuana. La piantagione, posta ai margini di un uliveto, era nascosta e accuratamente protetta su tutti i lati da altre piante di fico d'India ed era all'interno di un campo perfettamente irrigato grazie all'installazione di un sofisticato impianto a goccia. I militari della tenenza della Guardia di Finanza di San Nicandro garganico hanno individuato e tratto in arresto, poi tramutato in domiciliari, in fragranza di reato un uomo di 62 anni incensurato del posto, mentre era intento alla cura delle suddette piante di marijuana. Dalle piante sarebbe stato possibile ricavare circa 2000 dosi di marijuana da piazzare nelle città del Gargano. A San Severo le perquisizioni nei quartieri maggiormente a rischio della città hanno portato al rinvenimento di armi, un fucile alterato calibro 12 con calciolo e canna liscia mozzata artigianalmente e un'ingente quantità di munizionamento di diverso calibro. Il pregiudicato, 39enne, trovato in possesso dell'arma e delle munizioni, è stato immediatamente arrestato e tradotto in carcere. Infine arresti anche a Cerignola, dove un 25enne ha i vasi domiciliari, tagliando il braccialetto elettronico e rendendosi irreperibile per qualche ora, prima di essere scoperto e arrestato dopo un lungo inseguimento. Stessa sorte ad un 31enne, sempre di Cerignola, scappato dalla misura cautelare domiciliare tre mesi fa ed arrestato sempre dopo inseguimento. Questa mattina a Bitonto c'è stata l'udienza preliminare per i presunti affiliati alla mafia foggiana, tutti rinviati a giudizio. Ci aggiorna Roberto Parisi. È uno dei punti di partenza per cercare di arginare il dilagare della quarta mafia, incastrando una parte dei presunti appartenenti a gruppi criminali che negli ultimi tempi avrebbero condizionato la quotidianità, soprattutto delle attività commerciali. Questa mattina, primo appuntamento nell'aula bunker del Tribunale di Bitonto per l'udienza preliminare sulla richiesta dell'invio a giudizio di 44 soggetti coinvolti nell'inchiesta denominata Decima Azione Bis, portata a termine dalle forze dell'ordine a novembre dello scorso anno, facendo scattare le manette presunte affiliate ai clan mafiosi foggiani. Un'udienza breve che però ha segnato l'acquisizione della Costituzione di parte civile della Regione Puglia, di Confindustria Puglia e Foggia e dell'Associazione Libera che si aggiunge a quella di Fai Anti-Racket Foggia e della Fondazione Anti-Usura Buon Samaritano. Si tornerà in aula il 4 ottobre prossimo, ma ripercorriamo le tappe che hanno permesso agli inquirenti di chiudere la fase investigativa nei mesi scorsi. Le forze dell'ordine sono riuscite a chiudere il cerchio attorno ad un sistema di assorzione dei clan Moretti-Pellegrino, Lanza e Disinesi, Francavilla e Triscioglio-Tolonese, tra le attività che le organizzazioni criminali avrebbero messo in atto quella della segnalazione delle persone decidute agli uomini del racket e delle pompe funebri. Tra gli arrestati figurano Federico Triscioglio, Antonio Vincenzo Pellegrino, quest'ultimo conosciuto come capa antica della vicenda, fu coinvolto anche un dipendente dell'ufficio anagrafe del Comune di Foggia che avrebbe passato le informazioni agli esponenti delle organizzazioni criminali. L'aggiornamento sulla diffusione del Covid prosegue il calo della curva dei contagi in Puglia e migliora ancora la situazione. Nella settimana dall'8 al 14 settembre c'è stata una riduzione dei nuovi casi del 15,3% rispetto a sette giorni prima. I casi attualmente positivi ogni 100.000 abitanti sono 91 sotto soglia di saturazione i posti letto sia in area medica a 7% che in terapia intensiva a 4%. Nella settimana analizzata la provincia con più contagi è stata quella di Barletta, Andrea Trani con 54 nuovi casi, poi Lecce 42, Brindisi 31, Foggia 28, Bari 25 e Taranto 16. In Puglia è del 6,7% la quota di popolazione over 50 che non ha ricevuto nemmeno una dose di vaccino anti-Covid ed è comunque il miglior risultato in Italia seguito da quello della Lombardia con una scopertura dell'8,5%. La popolazione pugliese che ha completato il ciclo vaccinale al momento è pari al 71%, media Italia è del 68%. Nonostante la pandemia bisogna incrementare i livelli occupazionali. Nel corso del 2021 rispetto al 2020 in tutta Italia abbiamo avuto quasi mezzo milione di occupati in più e dovrebbero esserci occupati in più anche a Foggia e in provincia di Foggia e qui abbiamo il problema lavoro. Nella città capologo di provincia saprete delle polemiche per quanto riguarda gli operatori delle politiche sociali. Hanno manifestato perché rischiano il posto di lavoro nei giorni scorsi, la CISL al loro sostegno aveva chiesto un incontro con il commissario, la CISL ha detto che non ci ha ricevuto e allora noi questa mattina ne abbiamo parlato con il commissario di Foggia, Marilisa Magno. Il servizio è di Ciro Dattoli. E' una sciocchezza, non è vera. Abbiamo avuto l'incontro sindacale l'altra settimana, giovedì scorso, con tutte le organizzazioni sindacali. Con tutte le organizzazioni sindacali, sì. È la risposta ufficiale del commissario prefettizio al comune di Foggia. Una risposta senza ancora assunzione di impegni sulla fibrillazione in corso tra l'amministrazione e le forze sindacali. In ballo i servizi all'infanzia, quelli di inclusione sociale e nuovi bandi. Al momento nulla da fare per chi non ha potuto partecipare alla nuova selezione, ma proprio nessuna apertura per non cassare i servizi e salvare i livelli occupazionali? Poi non è che facciamo preclusioni da un'associazione a un'altra associazione sindacale. Assolutamente. Intanto le trattative continuano sui tavoli della dirigenza comunale per comprendere se ci siano strade perché almeno qualcosa non vada perso tra i posti di lavoro. Allora, speriamo bene per quanto riguarda questa vertenza a Foggia, ma ce n'è un'altra che riguarda gli operatori socio-sanitari. Saprete, quelli che hanno sostenuto il corso di formazione con l'associazione Pegaso sono stati chiamati a lavorare, hanno lavorato per sei mesi, ma poi hanno ricevuto la lettera di licenziamento da parte della Regione Puglia perché la Regione non riconosce l'attestato. È un dramma praticamente per tantissimi giovani e per tantissime famiglie. Stamattina, dicevo in apertura, è venuta qui a Foggia a mezza giunta, ne abbiamo parlato anche con l'assessore Sebastiano Leo e dunque sentiamo la posizione della Regione che non chiude l'avvertenza. Sentiamo che cosa ci ha detto. Io dico in generale questo, che i titoli che la Regione Puglia o che le Regioni rilasciano hanno un percorso che è stabilito dalla norma e dalla legge, quindi evidentemente c'è qualche problema che non sono proprio allineati ai percorsi che la Regione Puglia e alle autorizzazioni che deve dare alla Regione Puglia. Dicono che in altre Regioni sembra valido. Questo io non lo so. Io so che i nostri corsi regionali per gli operatori sociosanitari devono essere riconosciuti appunto dalla Regione. Sono corsi contingentati che noi riconosciamo, quindi il problema evidentemente se ci sono dei problemi sarà poi la Regione Puglia con gli uffici competenti e eventualmente altre sedi che stabiliranno. Che fine faranno questi giovani? Io cercherò di supportarli sempre come è sempre fatto, cercheremo di costruire percorsi anche di altri corsi, osso per riqualificarli o per dare ulteriori attività di percorsi. E' un'ultimo bando di riqualificazione? Questo io non lo so perché insomma sono gli uffici poi che stabiliscono questi accessi in base ai titoli, in base alle esperienze, ma noi stiamo lavorando per ulteriori possibilità di riqualificare gli osso. Quindi io penso che tutti possano stare tranquilli, devono stare tranquilli perché daremo a tutti la possibilità di riqualificarsi assolutamente. Bisognerebbe annullare tutti gli ostacoli della burocrazia per aumentare i livelli occupazionali. C'è bisogno soprattutto di questi tempi di lavoro, della forza lavoro soprattutto dei giovani. C'è bisogno di lavoro, ma il lavoro bisogna assicurarlo nella forma regolare e nel rispetto del lavoratore, non usufruendo di mano d'opera in nero. Molte aziende lo fanno e questa roba qui non va bene, tant'è che gli uomini dell'ispettorato del lavoro di Foggia hanno fatto un giro in provincia, hanno controllato nove aziende, ne hanno trovato quattro non in regola ed hanno trovato lavoratori in nero in diversi cantieri. Pensate un po' anche in un cantiere pubblico in un piccolo paese, a Motta, a Monte Corvino. Mano d'opera in nero nel settore dell'edilizia, il fenomeno dilaga, ma non sfugge agli uomini dell'ispettorato territoriale del lavoro di Foggia. Scoperte quattro aziende su sei controllate con 19 lavoratori irregolari. I controlli hanno interessato alcuni centri dell'alto tavoliere del versante settentrionale dei Monti Dauni. Lavoratori irregolari anche nei cantieri pubblici. Qui siamo in uno dei piccoli comuni, a Motta, Monte Corvino, dove l'impresa cetola di pietra a Monte Corvino sta completando i lavori del nuovo municipio. Gli uomini dell'ispettorato del lavoro, nel blitz dei giorni scorsi, hanno pescato un lavoratore in nero, sorpreso nel cantiere senza alcun contratto di rapporto con l'impresa che sta eseguendo i lavori. Il caso è clamoroso, considerando che siamo in un cantiere pubblico dove legalità e sicurezza dovrebbero essere garantite. A seguito dei controlli effettuati nella zona, sono state combinate sanzioni per violazioni amministrative e adottati due provvedimenti di sospensione in ambito gius lavoristico. Sono state accertate inoltre sette violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, aventi carattere penale. Dai piccoli comuni, dai Monti Dauni, scendiamo giù nel basso tavoliere e andiamo ad Ortanova, dove gli ambientalisti respirano. Ieri la Regione Puglia, o meglio la Giunta, ha detto no al progetto della realizzazione dell'impianto di un nuovo parco eolico. La Giunta ha espresso parere negativo. Sentiamo. Gli ambientalisti del basso tavoliere respirano per il momento niente paleoliche nel territorio di Ortanova, dove una società di Milano intende realizzare un parco eolico costituito da 19 aerogeneratori ed una potenza complessiva pari a 79,80 MW. Tutto in contrada di lampino, con opere di connessione e sottostazione elettrica ricadenti nel territorio di Stornara. La Giunta regionale ieri ha detto no a espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale. L'esecutivo pugliese, inoltre, precisando che il provvedimento è esclusivamente riferito al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di via di competenza statale, richiede che nel caso di esito favorevole del procedimento di valutazione di impatto ambientale siano prescritte nel decreto di via, misure idonee di compensazione ambientale e territoriale in favore dei comuni interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi comuni. Presentati questa mattina i nuovi mezzi della Taffa a Foggia, 10 urbani e 2 suburbani e poi ci sono altri 5 mezzi in arrivo. I nuovi mezzi sostituiranno le vecchie circolari, presto tutti i mezzi saranno in circolazione e al momento l'azienda, dunque il parco macchine dell'Ataf è di 66 mezzi per coprire 41 linee. Tutti i nuovi veicoli sono dotati di cartelli e indicatori, videosorveglianza, contapasseggeri. La cerimonia di presentazione dei mezzi c'è stata davanti alla Villa con il commissario ai vertici dell'Ataf e il comandante Romeo delle Noci. Finalmente a Foggia sono arrivati i nuovi autobus, sono bianchi. Adesso la pagina sportiva con le immagini naturalmente della vittoria della Foggia in Coppa Italia contro il Messina. Come è andata la partita? Sicuramente un passo in avanti per quanto riguarda l'aspetto della forma e dell'intesa dei reparti e poi quando giocano le squadre di Zeeman non ti addormenti mai, non ti scappa mai il sonno. È stata una bella partita, ce la fa vedere in sintesi naturalmente Fabio Lattuchella, a lui va la linea per completare questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per l'ascolto e buona visione. Prosegue il nostro notiziario con la pagina di approfondimento sportivo. Bentrovati, il Foggia ieri ha giocato e vinto il secondo turno della Coppa Italia di Serie C battendo 2 a 0 il Messina. Una partita in cui il Foggia ha sofferto poco, anche se il Messina in qualche occasione è riuscito ad arrivare dalle parti del portiere di riserva Volpe che ieri ha fatto il suo esordio ufficiale in maglia rosso-nera, giocando peraltro anche una buona partita. Dicevamo il Foggia ha sofferto poco, ha giocato la sua gara a viso aperto, ha usufruito anche di un Messina che è sceso, è salito, perdona Foggia, con non tanti titolari alla ricerca magari del colpaccio ma senza crederci più di tanto. Il Foggia ci ha creduto di più e lo vediamo in questo servizio di Tiziano Enrichiello. Il match di ieri pomeriggio allo Zaccheria doveva servire ai rossoneri principalmente per voltare pagina dopo la brutta e deludente prestazione di sabato sera con la Turris. Era questo l'obiettivo che si erano prefissati i monelli di Zeman alla vigilia della sfida al Messina di Salvatore Sullo che ha ceduto sotto i colpi di Curcio e compagni che hanno chiuso la contesa già nel primo tempo. Il boemo mandava in campo uno schieramento ricco di titolari con i soli volpe di Pasquale Rizzopinna tra le vere novità di questo scorcio di stagione. Poco turnover insomma a dimostrazione che la Coppa interessa e non poco al condottiero rossonero. Il Foggia ha superato il turno in scioltezza senza grandi problemi ma soprattutto ha dimostrato di essere libero mentalmente, di avere più convinzione nei propri mezzi e di essere fisicamente impeccabile fino al novantesimo. Un aspetto da non trascurare oltre alle tante indicazioni che il mercoledì di Coppa ha fornito a Zeman che può lavorare in proiezione futura con qualche certezza in più. Le indicazioni maggiori sono arrivate da Giacomo Volpe che ha interpretato a dovere il suo ruolo mostrando sicurezza e reattività tra i pali e sulle uscite. Meno statico ha partecipato molto alla manovra del Foggia nelle retrovie mostrando di saperci fare anche con i piedi. L'altra sorpresa di giornata è Davide Di Pasquale che ha dato sicurezza al reparto centrale di difesa dove gli avanti del Messina non hanno avuto vita facile con lui e Sciacca che si sono trovati a meraviglia. Peccato per l'uscita anzi tempo dal campo che preoccupa sperando si tratti solo di un affaticamento muscolare. Andrea Di Grazia non è una vera e propria sorpresa ma ieri probabilmente ha fatto capire che tipo di calciatore è soprattutto sulla fascia di sinistra dove è stata una spina nel fianco continua per i giallorossi siciliani. Da rivedere Rizzo Pinna che è calato alla distanza dopo un buon primo tempo. Mercai riproposto laterale a destra è tornato a pungere ed è piaciuto molto anche Curcio al centro dell'attacco. Rocca comincia a salire di condizione e i risultati si vedono. Buona anche la prova di Peterman come al solito pericoloso nelle conclusioni dalla distanza. Insomma tutto sommato un buon Foggia contro un modesto Messina che lasciava balde in tribuna e che mai si rendeva pericoloso dalle parti di Volpe se non con Catania che in un paio di occasioni si vedeva negare la via del gol proprio dalle uscite del numero uno rossonero. Archiviata la Coppa da oggi si comincerà a preparare la trasferta di Latina dove domenica pomeriggio i rossoneri saranno chiamati a riscattare il passo falso con i corallini. La vittoria di Coppa potrebbe essere un ottimo viatico per ritrovare la via dei tre punti. Un colpo subito da Di Pasquale non gli ha consentito di continuare la gara e resta adesso a rischio anche per la prossima partita lo dice anche Zeman nel corso della conferenza stampa subito dopo la gara contro il Messina. Un colpo subito anche da Rizzopinna non gli ha permesso poi come sentivamo anche nel servizio di Tiziano Enrichiello di continuare la buona prestazione del primo tempo anche nella ripresa. Ma cosa pensa il tecnico boemo della gara di ieri? Lo ascoltiamo. Primo tempo buono abbastanza ordinato con giuste misure tra le parti poi secondo tempo o per stanchezza o per che si volevano risparmiare per domenica non è stato uguale. Con la sconfitta si voleva vincere. È vero che Messina si è presentato con una squadra molto giovane che non gioca in campionato o ne giocano pochi. Ne abbiamo approfittato penso. Potremmo fare qualche cosa di più. Primo tempo dove eravamo ordinati avevamo qualche idea in più. Primo tempo abbiamo rispettato i ruoli. Abbiamo mantenuto buona distanza tra le parti e poi avanti qualche cosa abbiamo anche creato. Per me ancora poco, però i tempi bisogna imparare. bisogna cercare le motivazioni perché non si è riuscito a fare quello il primo tempo. È vero che molti giocatori avevano problemi fisici per scontri. Vedi Pina, vedi Pasquale, vedi Merkai. Zoppicando, zoppicando si gioca sicuramente peggio. E con questa dichiarazione di Znegnek, Zeman zoppicando si gioca peggio, andiamo ad ascoltare invece uno dei protagonisti della gara, uno dei migliori in campo, Di Grazia. Sono soddisfatto sia per me stesso che per la squadra che ha dato comunque una risposta al brutto risultato di domenica. Ora pensiamo a Latina perché comunque manca poco e dobbiamo anche rialzarci in campionato. C'è poco tempo per preparare la gara contro il Latina. Oggi è già giovedì, naturalmente domenica si riscende in campo per la quarta giornata del campionato di Serie C. Domenica ci sarà anche la seconda giornata del campionato di eccellenza e promozione, ma soprattutto partirà il campionato di Serie D con una grande e audace cerignola ai nastri di partenza tra le favorite della categoria. Ma volete sapere tutto sul calcio dilettantistico? Ce lo dice tra poco Antonio Villani con Spazio Dilettanti News, non prima però di aver riascoltato i maggiori argomenti trattati quest'oggi nel nostro notiziario. Caserma Miale all'Università di Foggia, la regione sostiene l'acquisto, operazione necessaria per l'aumento degli iscritti, oggi l'impegno. Netto calo dei contagi in Puglia, 15% in meno in 7 giorni, vaccinato il 71% della popolazione, 3 punti in più della media nazionale. Lavoratori in nero nei cantieri pubblici, blitz degli uomini del rispettorato in provincia, multate 4 aziende con 19 lavoratori regolari. Niente paleoliche nel comune di Orta Nova, la regione boccia il progetto della società milanese. Foggia in Coppa, Di Grazia e Curcio staccano il biglietto per gli ottavi, liquidato il Messina con il classico risultato. Sei arrabbiato per la bolletta salata? È solo colpa tua! Basta scegliere Itala Energia, luce e gas per ritrovare la serenità. Prezzi sempre bassi e bollette trasparenti. Avrai un consulente sempre a tua disposizione e uno staff di professionisti pronti a supportarti. Scegli Itala Energia. Itala Energia, luce e gas. Prezzi sempre bassi e bollette trasparenti. Per noi di Divella le cose più buone sono quelle più semplici. Per questo dal 1890 tutti i nostri prodotti sono preparati con ingredienti genuini e di alta qualità, sempre con grande rispetto per l'ambiente. Divella, passione mediterranea nel mondo.